Grazie Presidente, questo è un argomento che è stato affrontato in occasione delle numerose riunioni e incontri che ci sono stati con i rappresentanti delle associazioni, ultimo proprio quello di questa mattina in commissione, in occasione dei quali le richieste avanzate dalle associazioni sono state numerose ma devo dire che effettivamente non hanno riguardato questo aspetto specifico. Quindi devo dire che non mi risulta che attualmente il problema principale per le associazioni sia l'acquisto di questo tipo di materiale, in ogni caso ricordo che ovviamente c'è il decentramento amministrativo, quindi ogni municipio all'interno del suo bilancio e dei fondi che l'amministrazione mette a disposizione loro può decidere come meglio utilizzare questi fondi, quindi tramite la ristrutturazione della palestra, tramite l'acquisto di materiale sportivo o tramite l'acquisto di materiale per le sanificazioni, quindi questo i municipi già lo possono fare e decideranno loro appunto come meglio utilizzare queste risorse a disposizione, anche perché vorrei precisare ovviamente a quest'ordine del giorno manca una cosa che però è fondamentale ed è il motivo per cui non esistono pareri sugli ordini del giorno, ovvero non è necessario inserire la copertura finanziaria, quindi per completare il discorso bisognerebbe dire finanziamo l'acquisto di materiale per le sanificazioni e definanziamo un altro servizio, sostegno politiche sociali, riasfaltiamo meno strade, acquistiamo meno autobus, non so, comunque dovremmo dire eventualmente dove andiamo a prendere queste risorse ed è un discorso che impostato in questa maniera ovviamente siamo disponibili a fare in commissione bilancio, in qualsiasi altro ambito, e tra l'altro quello che invece le associazioni davvero chiedono è un intervento che abbiamo già votato, tra l'altro con i voti del Movimento 5 Stelle e del Partito Democratico, e lo ricordo quindi alle associazioni anche che ci stanno ascoltando, non con il voto favorevole di Fratelli d'Italia, Lega e a sorpresa anche della consigliera Celli, per l'utilizzo delle aree all'aperto, questo è quello che le associazioni chiedono con urgenza e abbiamo approvato due settimane fa in consiglio una proposta per snellire le procedure per assegnare queste aree e quindi le risposte concrete e gli aiuti che le associazioni chiedono possiamo darglieli, tra l'altro ricordo ancora e concludo veramente che da questo punto di vista, ovvero ridurre i costi a carico delle associazioni, abbiamo ottenuto anche grandissimi risultati sempre tramite le riunioni degli osservatori, in quanto molte associazioni si sono coordinate per la prima volta, non era mai successo che l'amministrazione coinvolgesse tutte le associazioni di tutta la città e si è creato sostanzialmente una sorta di grande gruppo di acquisto grazie al quale molte associazioni hanno abbattuto questi costi, quindi è un risultato che già è stato ottenuto e siamo contenti e orgogliosi di questo, quindi riteniamo questa proposta non peggiorativa rispetto agli usi alternativi invece che si potrebbero fare delle risorse pubbliche a disposizione, quindi il voto sarà contrario